Buongiorno a tutti, come state? Tutto bene? Allora, finalmente video diciamo quasi in presa diretta perché come potete vedere c'è il piumone quindi i video girati quest'estate sono finiti Dunque, in realtà non vedevo l'ora di parlarvi di questo romanzo perché voi sapete che io sono appassionata di thriller e so che tra voi che mi seguite ci sono altrettanti appassionati del genere quindi non vedevo l'ora di consigliarvelo perché a me è piaciuto veramente tanto allora, probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente come al solito io ho scoperto l'acqua calda nel senso che questo romanzo è vecchissimo e magari voi l'avrete già letto io invece non l'avevo ancora fatto ci hanno tratto un film che non ho visto quindi tanto per cambiare, insomma, io mi distingo in questo io e i film diciamo che stiamo cercando di migliorare il nostro rapporto siamo in pausa riflessione, stiamo riflettendo sul da farsi quindi, vabbè, questo non è molto importante però, lo stesso, se ci fosse fra voi qualcuno che ancora non l'ha letto insomma, carissimo o carissima, secondo me faresti una gran cosa a leggertelo allora, come potete vedere, il senso di Smilla per la neve l'autore, ve lo leggete da soli perché non sono in grado non lo so come si dice Oscar Mondatori e questo qui, come potete vedere dal talloncino lassù 5,90 euro, quindi si risparmia anche le pagine le pagine sono metti a fuoco vabbè, sono 480 vi fidate? eccolo, ce l'ha fatta 480 devo dire che 480 pagine non è che sia grandissimo una mole insormontabile però per come è fatto il romanzo devo dire che 480 pagine belle pregne di avvenimenti e cose cose particolari, strane, indizi vari non uno in ogni riga ma quasi uno in ogni pagina quindi io, l'impressione che mi ha dato a me quando ho letto l'ultima pagina è che era come se non avessi letto un romanzo di 480 pagine ma di 600 perché era pieno di roba pieno zeppo di roba poi mi ha coinvolto particolarmente, devo dire nel caso in cui qualcuno come me scoprisse l'acqua calda in questo momento vi racconto un pochino in linea veramente generale la trama perché se ci riesco oggi con questo video voglio tenermi sotto volevo dire 15 minuti ma diciamo 20 dai su cercherò di essere breve le ultime parole famose sì come no, certo allora Smilla chi era Smilla? allora innanzitutto prima di Smilla diciamo dove è ambientato il classico thriller nordico per eccellenza è ambientato a copenaghen nei giorni al ridosso del natale ambientazione fantastica secondo me per un thriller perché freddo, neve, ghiaccio, buio ambientazione che a me personalmente per un thriller intriga molto, devo dire ah tra l'altro lasciatemi dire che insomma come ho detto prima ho scoperto l'acqua calda perché questo romanzo è degli anni non fammi vedere degli anni 90 sì è del 92 il copyright e cercando su youtube in realtà sul web è diverso perché ne trovi un po' di più in generale in particolare su youtube io non ho visto tantissimi video su questo romanzo che effettivamente è stato scritto in tempi non sospetti adesso c'è stato il boom del thriller nordico svedese chiamatelo come vi pare del thriller scandinavo un filone un boom che è partito con Larsson ma in realtà ci sono altri romanzi magari più belli per voi io non dico a me questo è piaciuto di più di Larsson per esempio molto più piccolo ma è piaciuto di più ma questo è il mio gusto personale e so che non incontra l'opinione della maggioranza però ecco questo è stato scritto in tempi non sospetti ed è un bellissimo romanzo creato molto prima del boom del thriller nordico quindi vale la pena leggerlo perché ci aveva visto lungo insomma l'autore aveva capito che questa era un qualcosa un'ambientazione che poteva piacere al pubblico infatti oggi si vedono gialli thriller nordici dovunque se voi cercate su youtube video ne trovate a bizzeffe ma questo qui non ce ne sono tantissimi perlomeno non mi è sembrato di vederne tanti vabbè comunque ambientata a copenhagen sotto natale buio freddo ghiaccio eccetera eccetera chi è smilla smilla è un personaggio veramente veramente tosto la protagonista mi è piaciuta soprattutto mi è piaciuto soprattutto per questo il romanzo perché ha una protagonista che innanzitutto non è scontato non è scontata come molti altri personaggi di thriller che ho letto in questo periodo ma è anche una veramente tosta poi ve lo dico magari più in là vi dico innanzitutto che lei è nata in Groenlandia da mamma anche lei è nata in Groenlandia e papà danese i genitori si incontrano in Groenlandia il padre si innamora pazzamente della mamma e insomma nasce smilla smilla è cresciuta nata è cresciuta in mezzo alla neve fra i ghiacci e ha vissuto la sua infanzia e parte della sua adolescenza proprio sulla neve nei campi come posso dire tipo spostandosi con le slitte da una parte all'altra per spostare le mandrie da un picco ad un altro oppure da una montagna a una vallata per per motivi motivi meteorologici perché arrivava la tempesta una tempesta di neve oppure arrivava un non lo so una tempesta di ghiaccio e quindi spostavano le mandrie in primavera si riportavano io non sono molto esperta di queste cose però in primavera si riportavano i pascoli sulle montagne insomma lei è vissuta su una slitta trainata da cani e una particolarità lei non riuscirà mai a spostarsi in altri modi sul ghiaccio e sulla neve tranne che trainata da una slitta di cani era l'unico mezzo di cui lei si fidava perché c'era nata sopra una slitta di cani sostanzialmente trainata dai cani e quindi Smilla ha imparato fin da piccola a conoscere la neve e il ghiaccio poi quando sarà più grande e studierà all'università si specializzerà in nello studio dei ghiacciai purtroppo quando la mamma di Smilla muore lei che non era in un'età tale da poter vivere da sola era ancora minorenne deve è costretta a seguire il padre a Copenaghen e da lì si comincia la sua vita poi da adulta e il romanzo è appunto Ambie vede Smilla abitare Smilla abitare ancora a Copenaghen anche se in realtà non è molto contenta perché a lei gli mancava la Corellandia e la Copenaghen non è che gli stava tanto gli andasse tanto a genio il romanzo si apre con Smilla quando è grande va ad abitare nella periferia estrema di Copenaghen ed è interessante questo romanzo anche perché Smilla parla molto oltre che dell'episodio del thriller in sé per sé degli indizi del cercato di capire qualcosa in quello che è successo nell'incidente che ha scatenato tutto Smilla e Smilla oh ma perché oggi ma 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 Milla perché Milla ma che è vabbè non spengo il video perché non posso rifarlo l'altra volta quindi vi tenete questo questo strafalcione bello così ma Smilla si concentra molto nel parlare della della vita dei delle persone nate in Groenlandia ma trapiantate a Copenaghen quindi degli emigrati dalla Groenlandia a Copenaghen delle loro condizioni del loro modo di vivere e anche della diffidenza con cui vengono guardati dai danesi sostanzialmente è molto interessante questo è diciamo è un tema attuale infatti lei abita in un quartiere popolato da da immigrati sostanzialmente un quartiere che come dice lei una volta costruita tutta Copenaghen gli ingegneri gli architetti si erano scordati di progettare palazzi su quel pezzo di terreno che poi è il quartiere dove vive e quindi in fretta e furia si sono sbrigati a tirare su dei palazzi che sono terribili dei palazzi bianchi uno uno a fianco all'altro sono talmente brutti talmente inguardabili sembrano come sembrano delle cellule delle cellule tutte bianche infatti venivano chiamate cellule bianche non ci avevano messo molta cura perché tanto sapevano che quei palazzi venivano occupati da persone che non avevano tutte queste disponibilità finanziarie cosa succede che Smilla in generale Smilla non ama molto il rapporto con le altre persone perché è riservata chiusa è un personaggio molto particolare l'unica persona a cui si è affezionata è un bambino che abita nel suo palazzo insieme alla mamma ora la mamma di questo bambino si chiama Esaias la mamma di Esaias non è quella proprio che definiremmo mamma dell'anno perché erano più le volte che stava collassata su un divano incosciente e lasciava il bambino così libero di fare quello che vuole di quello che voleva e di provvedere a se stesso e per questo motivo Esaias forse anche in cerca di compagnia si affeziona molto a Smilla e tra i due nasce un'amicizia anche perché Esaias era nato da papà il padre di Esaias era nativo della Groenlandia e quindi anche nella fissionomia Smilla ed Esaias si somigliano molto è per questo forse che immediatamente quasi immediatamente diciamo fanno amicizia perché Smilla ve l'ho detto che è molto schiva molto riservata cosa succede un giorno Smilla torna a casa dal lavoro e vede vicino al suo palazzo al suo portone la polizia che sta recintando un'area presa dalla curiosità va subito a sbirciare e si accorge che la polizia sta recintando la zona di un di un incidente infatti che cosa è successo il piccolo Esaias è morto è cadendo dal tetto e le indagini sono appena iniziate nonostante le indagini siano appena iniziate il detective assegnato al caso subito marchia questo episodio come un incidente in realtà Smilla non è molto d'accordo e di nascosto che cosa fa questa va sul tetto perché lei doveva vedere le tracce doveva vedere che cosa era successo con i suoi occhi e quello che vede non gli piace per niente non gli piace perché dalle impronte che vede ricordiamoci che Smilla è nata e cresciuta sulla neve e fra il ghiaccio e la prima cosa che lei lo dice una delle prime cose che la mamma gli ha insegnato è a leggere le tracce nella neve a leggere le impronte sulla neve quindi lei da un'impronta ti sa dire vita morte e miracoli perché perché lì in Groenlandia è questione di sopravvivenza quindi lo impari da subito e Smilla le impronte che vede non gli piacciono per niente subito ribadisce questa cosa al detective che segue il caso ma lo farà anche al medico legale che farà l'autopsia che dirà che confermerà l'incidente Smilla dice questo le impronte parlano chiaro come è possibile che sto bambino non ci hava niente da fare si è messo a giocare sul tetto si è messo a correre sul cornicione ed è caduto un bambino che tra l'altro soffriva di vertigini perché per portarlo dal primo al terzo piano già per fargli fare tre rampe di scale questo bambino bisognava portarlo di peso al terzo piano si reggeva alla balaustra delle scale con gli occhi chiusi e saliva piano piano con gli occhi chiusi perché lui soffriva terribilmente di vertigini quindi qua sopra lui non ci sarebbe mai venuto da solo di propria iniziativa quindi o ce l'hanno portato o stava scappando non è possibile l'incidente non è venuto qui per sua volontà da qui parte il romanzo perché la polizia continua a sostenere la tesi dell'incidente smilla non è d'accordo e si metta ad indagare da sola un'indagine che la porterà dove mai voi potreste pensare che possa andare a finire si ritroverà tra Riff e Raff su una nave attrezzata a rompighiaccio rotta groellandia non vi dico altro a me è piaciuto tantissimo questo romanzo è piaciuto il personaggio di smilla perché è tosto quello che ho notato io è che allora molti autori vediamo se riesco a farvi capire quello che penso molti autori cercano costantemente e anche a volte morbosamente di far sembrare o di far sì di far sembrare simpatico il protagonista o la protagonista al lettore e voi dire potreste dire è certo perché se no il romanzo col cavolo che riesci a leggerlo in un determinato modo e io vi dico no esiste la prova contraria smilla non è un personaggio che aspira alla simpatia del lettore perché lei è diretta lei anche quando quando si pone ad altri personaggi che incontrerà nella sua indagine quando fa delle domande fa delle richieste o parla semplicemente con qualcuno lei si pone in un modo tosto quasi strafottente a lei non interessa risultare simpatica perché lei lei non vuole la tua amicizia lei sta bene da sola lei basta a se stessa quindi è un personaggio stranissimo ma secondo me molto interessante perché all'autore non gliene è fregato niente di fartelo risultare simpatico difficilmente entrerete in sintonia con Smilla in sintonia nel senso difficilmente proverete empatia per questo personaggio perché sarà proprio lei ad alzare un muro ma questo non impedisce al romanzo di essere bello ora io so che avendovi detto questo molte persone non lo leggeranno perché ci sono giustamente noi lettori siamo tutti diversi uno dall'altro ci sono persone che se non entrano in sintonia con il personaggio principale dalla prima pagina non riescono a portare a termine un romanzo è vero è stato così anche per me con dei romanzi passati infatti questo diciamo che la regola generale per me potrebbe essere quella ma ad ogni regola c'è l'eccezione questa è stata l'eccezione quando io ho cominciato a leggerlo e alle prime 50 pagine ho visto che non riusciva non riusciva a starmi simpatica smilla ci ho avuto un attimo di insomma ho barcollato un attimo però devo dire che ho tenuto duro ho fatto bene perché il romanzo merita di essere letto a me è piaciuto tantissimo quindi non lasciatevi fregare da questa cosa provateci io vi avverto in alcuni punti ci sono delle descrizioni abbastanza non impegnative perché niente è impegnativo sostanzialmente cioè non stiamo a parlare di un trattato di astronomia stiamo parlando di un thriller però ecco per chi non ama le descrizioni anche qui deve tenere duro se ce l'ho fatta io ce la fate anche voi però sappiate che queste descrizioni vi servono tutte perché altrimenti non capireste il finale e ad ogni pagina c'è un indizio quindi non vi distraete non vi distraete veramente ci sono indizi che riportano al passato indizi ovviamente che riguardano il presente quindi il caso della morte del bambino ma ci sono anche indizi che porteranno Smilla a scavare in un passato poco limpido diciamo io non so che altro dire cerco di starmi zitta perché sento che lo spoiler è in punta di lingua e non vorrei rovinare la festa a qualcuno comunque l'autore mi è piaciuto come scrive Peter Hoag linguaggio semplice niente ghirigori questo è come posso dire non c'ha bisogno di fronzoli forse è per questo che anche Smilla è così senza fronzoli quello che c'ha da dirtelo te lo dice sì ci sono delle descrizioni un po' più complicate però vi servono no complicate un po' più toste magari da digerire però vi servono perché se no non capite niente di quello che state leggendo e non potreste seguire Smilla nelle sue indagini che vi ripeto vi porteranno dove mai avreste pensato di 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 arrivare non lo indovinerete mai il finale mai cioè io vi sfido magari chi l'ha letto se l'aveva capito io non l'avevo capito e secondo me è difficile da capire va bene allora ho mantenuto la mia promessa il mio proposito non la promessa non era una promessa il mio proposito è stato rispettato sto sotto i 30 minuti anche perché così il caricamento ci mette un pochino di meno per andare a buon fine niente io vi saluto viva i thriller insomma se voi l'avete letto fatemi sapere com'è se avete letto qualcosa di simile o comunque se ultimamente avete scoperto dei thriller particolari o dei romanzi noir voi sapete che a me piacciono è uno dei generi che a me interessa sono alla ricerca di un noir bello tosto quindi se qualcuno di voi ha letto un noir bello tosto è pregato di gentilmente di lasciare due righe qui sotto e io l'apprezzerò con tanto con tanta felicità ma deve essere tosto eh perché sì deve essere ogni tanto io me lo concedo uno di questi libri così tosti e gagliardi nel senso che devo prendermi le pause per digerirlo va bene vi saluto buona settimana anche se la settimana è a metà e niente ci sentiamo presto vediamo che riuscirò a combinare con il prossimo video dopo questo vediamo non lo so ciao